Quando ogni 26 maggio capita di fare memoria del grande San Flippo Neri, non è infrequente sentire l'appellativo di Santo della Gioia. Certamente egli merita questo appellativo se si mette però nella giusta prospettiva che cosa intendiamo quando stiamo parlando di gioia. In effetti anche libertà, ugualianza e fraternità dei rivoluzionari sono concetti cristiani, ma nella loro mente, cioè dei rivoluzionari, significavano tutta un'altra cosa. A volte la gioia di cui si parla in ambienti cristiani sembra più una specie di allegria, non un gaudio che parte da dentro. Insomma, spesso sembra che si depauperi questa gioia del fondamento spirituale, che tutto dovrebbe reggere per farla essere, ripeto in certo moderno cattolicesimo, un vago rallegrarsi. Questo non è strano se pensiamo all'enfasi che si è messa negli ultimi decenni su tutti quegli elementi della dottrina cristiana che, pur se in sé degni di ogni rispetto, non si potrebbero capire se privati dell'altra loro dimensione. Quindi, come sapete bene, abbiamo panchetto senza sacrificio, risurrezione senza passione e, appunto, gioia senza vita interiore. Ma San Flippo Neri fu certamente un grande santo perché viveva la sua gioia come espressione della sua grande vita interiore, della sua grande vita intima di fede. Insomma, è vero che diceva ai suoi figlioli di stare allegri, ma è anche vero che se lo faceva in arrabbiare gli diceva «te possi morì ammazzato, ma pela fede». Insomma, dal suo umorismo, dalla sua gioia, non mancava mai il richiamo alle cose dello spirito. Oggi, purtroppo, anche nei canti liturgici, si incoraggia questa insana allegria, come se la liturgia debba essere considerata in primis come intrattenimento. Ma se mi devo intrattenere, posso scegliere qualcosa di più divertente che andare a messa? La messa è per qualcos'altro. Lo scrittore Theodor Mainar, parlando di San Flippo Neri, diceva, e cito, «La gioia, anche quando non appariva a Filippo un segno di santità» era, secondo lui, una delle vie più dirette per raggiungerla. Sapendo, come sapeva, che la maggior parte della infelicità proviene dall'amore di se stessi e che gli egoisti sono invariabilmente tristissimi, si ridicò soprattutto a condurre il prossimo all'umiltà. Sono questi i due punti gemelli del corpo della sua dottrina, se si può dire che ne avesse una. Tra essi, di gran lunga più importante, era naturalmente l'umiltà. Egli sapeva infatti che dall'umiltà sarebbe fluita senza fallo la gioia. Quindi, come ci fa capire Mainar, questa gioia non era fine a se stessa, ma sempre diretta a qualcosa di più alto. Come tutti gli uomini profondamente spirituali, San Filippo Neri era anche un uomo molto concreto, che chiedeva agli altri di stare buoni, ma se potevano. Insomma, un santo che sapeva che con gli occhi fissi al cielo avrebbe visto con più intensità anche sulla Terra.